Ciao cari spettatori e benvenuti all'oroscopo di oggi. Siamo entusiasti di accogliervi in questo momento speciale in cui esploreremo le stelle e i loro influssi sulle vostre vite. Sarà un viaggio emozionante attraverso l'astrologia e i segreti che essa può rivelarci. Quindi, sedetevi comodi e preparatevi a scoprire ciò che il destino ha in serbo per voi oggi. Segno a liete. Potresti voler prestare attenzione alle ricompense o adattare questa frase per adattarla a qualsiasi cosa stia catturando la tua attenzione in questo periodo, poiché le preoccupazioni sulla tua salute potrebbero travolgerti in questo momento o in un momento qualsiasi della giornata. Se stai facendo affari con un cliente in un paese straniero, potresti portare a casa una somma considerevole di denaro, a riete. Puoi avere il miglior momento della tua vita se riesci a prendere decisioni intelligenti e gestire con successo le tue finanze. Potresti dare molta importanza a diventare un buon gestore delle tue finanze. Hai il diritto di considerare oggi come un passo verso gli obiettivi che ti sei prefissato e sei incoraggiato a farlo. Il tuo rapporto con le persone di alto rango nell'organizzazione potrebbe diventare migliore in futuro. Sul fronte professionale, puoi aspettarti un cambiamento. La situazione sta evolvendo a tuo vantaggio, rendendo questo il momento ideale per abbracciare nuove sfide e portare positività nella tua vita. Fai attenzione alle possibili dispute con i vicini o gli amici, poiché potrebbero mettere a dura prova i rapporti. Segno Toro Potresti voler fare affidamento di più sulla realtà e sull'azione piuttosto che su ciò che ti viene detto, perché altrimenti potresti rimanere deluso, poiché non tutti seguiranno le migliori intenzioni. Potresti trovarti coinvolti in conflitti se cerchi di proteggere chi ti sta a cuore. Toro Se stai spendendo soldi per un acquisto importante, oggi potrebbe essere il momento migliore per concludere quella transazione. Se hai un'intuizione su qualcosa, agisci di conseguenza e valuta le opportunità che potrebbero aumentare i tuoi guadagni. Non sai mai quando il tuo vecchio investimento ti ripagherà con una somma inaspettata. L'impegno che stai mettendo potrebbe aiutarti a completare con successo un compito. Per coloro che cercano giustizia legale, c'è una buona probabilità di una decisione favorevole che porterà soddisfazione. Gli studenti potrebbero ricevere notizie positive sulla loro carriera. La tua vita personale sembra più stabile. Tuttavia, fai attenzione alle questioni finanziarie oggi. Segno gemelli Dovresti concentrarti di più sull'armonia familiare e migliorare il tuo stile di vita rendendo la tua casa più accogliente per tutti. Questo è un ottimo momento per rilassarsi un po' e sistemare alcune faccende domestiche mentre incontri le persone a te care per una cena o altre occasioni. Molte probabilità che le cose vadano notevolmente meglio per te dal punto di vista finanziario oggi. Questo è un'aspettativa basata sulla probabilità. Investire i tuoi soldi in un'azienda con una buona reputazione potrebbe portarti guadagni a lungo termine. Il tuo entusiasmo per i compiti che svolgi in ufficio non sembra diminuire col tempo. Potresti decidere di non partecipare alle attività politiche dell'ufficio e, invece, concentrarti completamente sulle attuali responsabilità. Potresti essere in grado di realizzare ciò che hai pianificato. Il ritorno di persone che hanno avuto un ruolo significativo nel tuo passato potrebbe portarti gioia e possibilità di riconciliazione. Fai attenzione a non formare legami troppo stretti con i colleghi per evitare futuri problemi. La tua situazione finanziaria potrebbe andare per il verso giusto. Non sforzarti troppo in questioni d'amore, invece, concentrati sulla crescita della tua carriera oggi. Segno cancro Oggi potresti incontrare persone, la tua salute e la tua fortuna sono ancora favorevoli. Stai puntando a una promozione al lavoro ma l'azienda non sembra essere propensa ad artela? C'è una buona possibilità che riceverai una chiamata dopo oggi. I tuoi superiori hanno notato tutti i tuoi sforzi e sono disposti a ricompensarti con una promozione come riconoscimento per tutto il tuo impegno. Sfrutta al massimo questa opportunità per aumentare le tue responsabilità lavorando ancora più duramente e mostrando più interesse. Ti stanno osservando da vicino. Se tu o un familiare avete recentemente affrontato una separazione o un divorzio, cerca di evitare che questa esperienza influisca sulla tua vita. Potresti ricevere aiuto o consigli da una persona cara, ma non aspettarti che gli altri pensino e prendano decisioni al tuo posto. Per qualche motivo, potresti sentirti un po' irritabile e avverso a ciò che è accaduto, ma cerca di non trattenere emozioni negative. Segno leone Avrai una giornata eccezionale dal punto di vista finanziario, ma non immaginare che il denaro piova dal cielo, perché non accadrà. Questo è un buon periodo per tutti coloro che hanno lavorato duramente in passato per ritornare alla stabilità, ma devi essere cauto quando si tratta di investire o spendere denaro. Leone Probabilmente conosci i modi più efficaci per gestire le tue questioni finanziarie. Potresti sentirti tranquillo perché sembra esserci un flusso di denaro stabile. Potresti desiderare di fare un viaggio per celebrare la nuova stabilità finanziaria che hai trovato e goderti del tempo lontano da casa. Potresti avere alcuni meravigliosi momenti con la tua famiglia, che amerai per sempre se dedichi loro tempo prezioso. Gli altri potrebbero ammirare il rispetto e l'affetto che dimostri sia per i tuoi inferiori che per i tuoi superiori nella tua vita. È probabile che le tue responsabilità sul lavoro ti tengano occupato. I tuoi colleghi potrebbero sostenerti nei progetti che stai perseguendo. La vita sentimentale guadagnerà forza e le condizioni finanziarie potrebbero migliorare, ma alcune preoccupazioni sulla salute continueranno a persistere. Segno Vergine Potresti sentire la necessità di distinguerti e risaltare tra la folla. Questo potrebbe essere uno dei periodi abituali in cui ti senti unico e cerchi di dimostrarlo, ma questa volta sembri anche interessato alle opinioni degli altri. Sii aperto alle risposte e alle critiche, perché possono rivelarti cose interessanti su te stesso. Vergine, è probabile che il tuo stato d'animo attuale sia legato alla situazione finanziaria attuale che ti sta influenzando. Dovresti valutare la tua situazione finanziaria attuale e cercare di aumentare le entrate per soddisfare le tue esigenze. Potresti avere una giornata piena di gioia e relax in famiglia. Potresti scegliere di parlare con qualcuno più esperto e dimostrare loro amore e attenzione mentre condividi il tempo con loro. In risposta ai tuoi sforzi, i membri della famiglia potrebbero mostrarti affetto per ciò che hai fatto. Il tempo ha portato molte opportunità per abbandonare la resistenza e abbracciare il cambiamento con un atteggiamento positivo. È importante adattarsi all'ambiente in evoluzione, altrimenti potresti affrontare situazioni difficili e sfide in futuro. Aspettati un flusso di denaro e una salute stabili. Segno bilancia. Sfortunatamente, potresti combinare questo con una tendenza a sovrastimare l'importanza delle tue azioni, il che potrebbe portare a problemi. Per risolvere questa situazione in modo soddisfacente, dovresti cercare di rimanere saldo nelle tue convinzioni senza reagire in modo eccessivo. Rivolgendoti a tutti i nati sotto il segno della bilancia, è possibile che la tua situazione finanziaria attuale sia di media entità. Le tue azioni potrebbero generarti un certo profitto. Potresti voler considerare donare una parte dei tuoi guadagni da attività commerciali a un'organizzazione benefica. È probabile che non riesca a realizzare il tuo obiettivo iniziale di acquistare una villa in una zona di lusso se la tua situazione finanziaria non migliora significativamente. I membri della tua famiglia potrebbero sostenerti. I bambini potrebbero essere impegnati in alcuni progetti. Potresti affrontare uno stress mentale oggi, quindi preparati. Non sprecare il tuo tempo in attività ricreative e concentrati sul lavoro. Le condizioni di salute saranno favorevoli, ma potresti dover affrontare una crisi finanziaria. Segno Scorpione Oggi, Scorpione, è probabile che non ti senta stressato come al solito riguardo alla tua situazione finanziaria. Potresti voler esplorare diverse opzioni per aumentare le entrate. L'oroscopo giornaliero per oggi suggerisce che i soldi che hai investito nei mercati finanziari in passato potrebbero iniziare a fruttare un buon profitto se li mantieni stabili. La tua famiglia potrebbe essere soddisfatta di te e potrebbe non sentire la necessità di assegnarti ulteriori responsabilità in casa, poiché ritengono che non sia necessario. Le loro aspettative potrebbero essere realistiche e soddisfarle potrebbe non comportare molte difficoltà. Se è così, dovresti sentirti fiducioso nelle tue capacità di soddisfare le loro esigenze. La vita sentimentale sta vivendo un cambiamento positivo, con la possibilità di pianificare un appuntamento segreto con il tuo partner stasera. La carriera sarà stabile. La salute è buona, con molte opportunità di avanzamento in posizioni migliori, che sicuramente valgono la pena. Segno Sagittario Potresti voler essere più attento a ciò che desideri, poiché ci sono alcune opportunità che potresti ottenere in questi giorni. Potresti anche concentrarti di più sul lavoro, poiché è il luogo in cui puoi trovare maggiori soddisfazioni. Potrebbero emergere alcuni rivali concorrenziali con le loro zanne, quindi è importante prestare attenzione. Per quanto riguarda la questione finanziaria, potresti avere una prospettiva costruttiva. È possibile che il lavoro che stai facendo con il denaro migliori nel tempo. Potresti avere successo con il progetto che stai attualmente portando avanti e portarlo a un livello superiore. Le tue relazioni professionali potrebbero non subire molte modifiche a breve. Potresti avere la possibilità di ottenere ciò che desideri. Potresti avere una percezione errata che non partecipi a nessuna attività politica in ufficio. Alcuni colleghi potrebbero schierarsi dalla tua parte. Rispetta gli anziani perché le loro benedizioni possono essere uno strumento per raggiungere i tuoi desideri. Potresti non notare cambiamenti significativi nella tua salute oggi. Le condizioni finanziarie potrebbero migliorare grazie a progetti che possono portare notevoli profitti. Fai attenzione ai colleghi gelosi che potrebbero rappresentare una minaccia. Segno Capricorno Oggi è un'opportunità per esplorare te stesso. Potresti incontrare qualcuno che potrebbe portarti notizie non molto felici. Una discussione con un partner potrebbe mettere a dura prova la tua relazione, quindi prendi le misure necessarie per ripararla. Stai attento agli accordi legali oggi. Capricorno, molto probabilmente oggi sarà una giornata finanziariamente normale per te. Potresti sentire di spendere leggermente più di quanto guadagni, ma questa è una percezione comune. Puoi lavorare più velocemente per completare i tuoi compiti correttamente. Puoi scegliere di lavorare in base al tuo reddito o alle tue spese per raggiungere un equilibrio finanziario sano. Dovresti mantenere la disciplina e cercare di mantenere le tue abitudini attuali o cercare di crearne di nuove se ne hai bisogno. Dovresti anche fare attenzione a come gestisci le questioni commerciali, specialmente quando devi spostarti, poiché potresti essere facilmente distolto. Segno Acquario Il progetto a cui hai dedicato molto tempo sta finalmente portando risultati positivi e profitto, segnando una svolta nella tua vita. Potresti avere l'opportunità di un viaggio all'estero, anche se potrebbe non essere per scopi di svago ma legato al lavoro. Potresti avere alcune preoccupazioni minori per la salute, ma niente di cui preoccuparti eccessivamente. Potresti, Acquario, considerare questo un buon momento per investire nel mercato azionario. Oggi è un giorno estremamente fortunato per te. Potresti guadagnare profitti significativi se investi in proprietà commerciali. Oggi potresti pianificare una gita con la famiglia, ma i tuoi piani potrebbero non concretizzarsi a meno che tu non faccia qualche sforzo extra oltre a quanto richiesto. Oggi potresti affrontare alcune difficoltà con il tuo partner e potrebbe essere difficile comunicare davvero, ma niente che dovrebbe separarvi per troppo tempo. Che tu sia aperto o meno, il tempo ti aiuterà, ma dovresti comunque fare attenzione ai segnali che emergono riguardo alla tua relazione in questo periodo. Segno pesci Considera oggi come un nuovo inizio, soprattutto per coloro che lavorano nel campo creativo, poiché avrai l'opportunità di brillare. Ricevere buone notizie da un membro della famiglia ti darà gioia. La tua salute si sta stabilizzando, e potresti incontrare persone conosciute. Dal punto di vista finanziario, ti sentirai al sicuro. Pesci Hai lavorato duramente per raggiungere un livello di sicurezza finanziaria, che hai ora. In questo momento, non dovresti intraprendere nuove transazioni o investimenti finanziari. Potresti essere soddisfatto di ciò che hai. È probabile che la tua famiglia sia d'accordo con la tua scelta di rilassarti e passare del tempo a casa. L'atmosfera che condividi con la tua famiglia a casa potrebbe essere una delle parti più piacevoli della tua vita. Per migliorare il tuo lavoro, dovresti imparare a organizzare le priorità per le diverse attività che hai. Oggi sei abbastanza attraente e senti il coraggio di affrontare alcune cose che prima potevano sembrarti intimidatorie. Sia nella vita sentimentale che nel lavoro, potresti sperimentare qualcosa di nuovo, ma assicurati di notare le sensazioni che hai trascurato o non hai mai sperimentato prima. Grazie. Grazie.